C'è un momento in cui una carezza vale più di mille parole. Un sorriso può confortare più di qualsiasi terapia. In questo momento di emergenza sanitaria i nostri nonni, padri, madri sono rimasti senza nessuno di questi conforti da parte dei loro cari. Allora l'associazione Amici del Cuore Giuseppe Albi vuole provare ad accorciare le distanze, pensando ai più fragili, agli anziani rimasti all'interno delle residenze sanitarie. Per questo ha deciso di destinare una raccolta fondi all'acquisto di tablet e di una sonda ecografica wireless che possa fare piccoli passi anche verso la telemedicina. I mezzi digitali saranno destinati alla residenza socio-sanitaria assistenziale Villa Giovanni XXIII di Bitonto. La fondazione Villa Giovanni XXIII è una residenza socio-sanitaria per 115 anziani non autosufficienti e 18 disabili in situazioni di gravità. Parliamo di ospiti quindi molto fragili a causa delle loro pluripatologie. Sin dal 29 febbraio abbiamo dovuto a causa del coronavirus chiudere la struttura a visitatori e parenti e vi lascio immaginare come questa decisione abbia potuto creare tanta sofferenza, anche se da subito abbiamo consentito ai nostri ospiti collegamenti con Whatsapp o via Skype. È per questo che salutiamo veramente con grande favore e li ringraziamo per la sensibilità all'associazione Amici del Cuore per aver promosso una raccolta fondi per l'acquisto di tablet che ci consentiranno di incrementare questa forma di contatto tra gli ospiti e i loro parenti e che in futuro potremo utilizzare anche come supporti per la diagnostica e per la consulenza medica a distanza. Sarà possibile effettuare le donazioni collegandosi al sito in sovrimpressione sulla piattaforma GoFoundMe o con un bonifico sul conto intestato all'associazione. Lo ha detto anche nonna Giulia, Usare la tecnologia apre un mondo. Li aiutiamo insieme? Ma poteva essere una cosa più bella perché si può guardare, ascoltare, parlare, certo. Sì, guarda un po' stinja qui c'è.